Signore, stava sognando? Era un mezzo mago, così ce lo siamo portato con noi. Tutta quella bellezza, i vasi, l'oro, tutto lasciato lì per un mondo che non si sapeva neanche se c'era. Il mondo delle anime. Cerco la signora Flora. Ma le avevo detto che sarebbe tornata. Guarda, guarda chi c'è, è l'altro mio unico amico. Taglia, grazie. Mangia. She wants to hear what we say. Se vuoi posso farti un corso accelerato in italiano. Vedremo d'occhio. Incantesimo. It's of inestimable value, but that's what we're here for. Estimate the inestimable. Rubare le cose delle anime! Vi maledico! Non ti perdere, Danico. Tu trovi sempre tutto, eh? Danico, così! We need to talk. We need to talk. We need to talk. We need to talk. ...